Ciao a tutti e bentornati di nuovo qui su Annudo, questa volta insieme a Matteo Piccarazzi, Aga Dread Ciao a tutti, grazie mille dell'invito, mi hai minacciato alla fine, non mi hai mai minacciato ma un secondo prima di partire con la registrazione mi ha detto adesso ti minacciamo con le domande Questa cosa mi è nuova, era una trappola in realtà, va bene lo accetto Ma tu le hai lette le domande? Sì sì, no no no, le ho lette ma a questo punto penso che siano false e che ne abbiate altre finte che io non ho letto No no no, noi non facciamo trappole di questo tipo, ne facciamo altre ma non di questo tipo, quindi io direi di lanciare, come si fa in televisione, un RVM con la presentazione del buon Dread Così anche chi non lo conosce potrà conoscerlo tramite le nostre meravigliose parole riassuntive Dread, per i terrestri Matteo Piccarazzi, è uno youtuber di quelli che stanno a galla nonostante la piattaforma cambi, i tempi cambino e il mondo cambi Partito come gamer, ha presto sviluppato un carisma fuori scala, reinventando i suoi contenuti e mantenendo compatta la sua community a colpi di temi caldi, opinioni scottanti e colazioni a base di latte e attualità Signori, Dread Bene, voi dovete sapere che noi Matteo praticamente, forse ce ne siamo incrociati mezza volta Può essere Ma mezza volta una delle prime fiere e poi lui se ne uscì una volta con, raga io sto a fare sto canale, mi serve qualcuno che Che me lo regge una settimana, tipo una cosa del genere Sì, e ci siamo trovati a dover fare Nebs praticamente, quello che facciamo sul nostro canale, però sul suo, così tipo in bianco tanta gente sapeva un cazzo di noi E tanti invece si ricordano ancora che ci hanno conosciuto tramite quello È vero, anche a me me lo ricordano, me lo ricordano un sacco di gente di quel periodo lì Ma perché la gente si ricorda molto le cose, soprattutto queste cose, perché alla fine era una collaborazione strana, no? Cioè non avevamo mai fatto niente né insieme né comunque frequentiamo diciamo le stesse persone, lo stesso ambiente Quindi ci siamo visti proprio online proprio Però è piaciuto, quindi a me ha fatto sempre piacere e mi fa ancora piacere in realtà di aver fatto quella scelta quel giorno di chiedervelo Quindi vi ringrazio dopo otto anni Ma la fiducia, cioè capire? Tu metti in mano un canale a noi che praticamente Oh Nico, sta cosa, va bene, facciamolo, ok? Noi eravamo piccolini, rispetto a te mi sembra che all'epoca avessimo dei numeri molto più piccoli Allora io non mi ricordo neanche l'anno, forse era il 2013 a questo punto Allora noi abbiamo iniziato il 2012, 13, 14, quella era Il 2014 era, sì Guarda il 2014 era proprio l'anno in cui ho fatto il boom diciamo, cioè l'accelerata di iscritti E anche Gamescast in realtà, quel canale lì all'inizio andò fortissimo Perché adesso ovviamente non lo uso più Però fece tipo 100.000 iscritti in boh 4 giorni, una cosa del genere Perché era una cosa nuova che avevo fatto E era piaciuto, poi ovviamente come tutte le cose che funzionano le lascio aperte Perché sono un genio E poi niente, poi è morto lì in realtà Peccato, dai però almeno abbiamo battezzato un bel canale Sì sì no, quello senza dubbio Io partirei con le domandine Perché le facciamo in ordine sparso o vogliamo attenerci più o meno alla scala Perché noi quando abbiamo pensato a queste domande Le abbiamo pensate in un ordine completamente a caso Siccome siamo persone organizzate a metà Non le abbiamo mai messe in un ordine specifico Quindi penso che possiamo andare un po' a cazzo di cane, che dici? Sì 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 Partiamo da quella un po' più stronza Io parto da quella più stronza Di chi sei invidioso? Così a bruciapelo Sul web o in generale? In generale In generale? Te lo dico La gente fa come il gatto Sonpetta la domanda Cerca di schivare No era per capire se ti trovavi effettivamente qualcuno di cui potrei essere invidioso Tu inizia, poi te lo chiedo io Ok vabbè Invidioso Invidioso intanto In realtà ti dico di nessuno Perché sono felice di quello che ho E di quello che faccio Però se dovessi scegliere di chi essere invidioso Probabilmente sarei tipo invidioso di Elon Musk Ecco qua Perché fa come gli pare Cioè fa tutto quello che gli pare Penso sia ricco Tantissimo a questo punto E poi fa cose fighe Cioè partecipa a cose fighe Fa cose fighe Fa progetti fighi Quindi è tipo Iron Man Quindi sì sono invidioso di Iron Man In effetti è la cosa più vicina a Tony Stark Che abbiamo adesso in real life È il Tony Stark Irla lui Ma l'invidia che provi per lui Vabbè chiaramente è anche ammirazione Certo certo È la sua condizione che invidi Oppure ti piacerebbe proprio fare quelle cose Cioè nel senso ti piace il fatto che lui sia Mazinga O proprio anche fare quelle cose Ti piacerebbe se avessi le competenze No ma anche farle in realtà Cioè quell'ambiente lì È un ambiente Cioè che a me interessa Ma non interessa Nel senso che Ho mai studiato qualcosa Che faccia parte di quell'argomento E mi interessa Perché è una cosa Che è piena di curiosità Secondo me Lo spazio in generale E anche la tecnologia in generale E lui essendo appunto Molto dentro questi mondi Mi fa invidia Tra virgolette Il fatto che sia Un riccone gigantesco Con dei superpoteri mentali Che sfrutta per fare Praticamente quello che vuole Su argomenti che ama Cioè questo è quello che Che mi piace molto di lui Poi uno che costruisce Un lanciafiamme Per me è un eroe Eh capisce Cioè ma Una persona che distrugge Il vetro di una sua macchina Che ha appena costruito Cioè Devi solo essere un genio Ok Quindi Elon ma sai che Questa Questa cosa È abbastanza Comune Hai detto una frase Che hai detto Cioè fa quel cazzo Che gli pare Questa è una frase Abbastanza comune Quando facciamo questa domanda Cioè io sono invidioso Di chi fa quel cazzo Che gli pare Quindi più o meno O Elon Musk O chi per lui Insomma Questo fare quel cazzo Che ti pare È una cosa Molto gettonata E se invece ti facessi Una domanda Un po' più metafisica Sì Tipo Se fossi Dio Come organizzeresti Il paradiso Come organizzerai Il paradiso Beh Come organizzerai Il paradiso Eh bella domanda Bella domanda Eh Bah Allora intanto Tipo Non lo so Allora io so Sarei un capo Che può Che si farebbe Cioè sarei un Dio Corrotto Cioè mi farei Corrompere in realtà Perché Sì c'è Sono Dio Già ho tutto E posso fare tutto Mi faccio corrompere Perché sì Sono Dio E quindi sarebbe Alla fine Una scala di Chi mi corrompe di più Ah quindi Tu ti metti là Le porte del paradiso Chi ti porta più roba Lo metti in alto Cioè lo metti più vicino A te Che sei Dio Mentre gli altri In scala Più in basso Quindi te la vedi Come una piramide Fondamentalmente Sì esatto Un sistema piramidale Del paradiso Secondo me potrebbe Essere funzionale Un sistema piramidale Me la sto immaginando Ma che fa Tanto comunque Se sei in paradiso Significa che già sei buono Quindi non è che Devo darti un valore Di bontà Ti posso dare Un valore di altro Cioè sei in paradiso Sei arrivato al top Adesso Guadagnati la cima Ma fammi capire Che cazzo si fa Nel tuo paradiso Nel mio paradiso Cosa si fa? Oltra sta seduto In questa piramide Cioè Cosa puoi fare? Come lo organizzi tu? Ti posso dire la verità Io ci ho sempre pensato Tipo ma Cioè ho detto Ma Dio no Cioè si annoierà Una certa Secondo me lui Ha un grandissimo binocolo O una grandissima vista In realtà dipende E vede E vede Cioè io avrei I miei Adepti Ovviamente più vicino a me Chi mi dà più soldi L'abbiamo detto prima E E li metterei davanti A un teatro Che è la terra Cioè vedono quello che gli pare Cambiano canale Si spostano di latitudine Di longitudine Per vedere che fa la gente Spiano Quindi stanno Al dissu Stanno in cielo Queste persone E ci spiano Ideologicamente Diciamo che lo vedrei lì Quindi è Un grosso ufficio Dove si fa Dove si gode Di uno streaming Privilegiato Sì esatto È un gigantesco Ufficio a vetri Però mi piace Che in paradiso Di solito ci vanno i buoni Da te ci fanno Quelli più corrotti E laidi No 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 Ci vanno i buoni No ci vanno i buoni Poi se All'interno del paradiso Vuoi raggiungere Una posizione Sovrelevata E vuoi una suite E la suite costa Anche in paradiso Mi chiedo una cosa Tu come Dio Cioè Siccome sei Dio Sei onnipotente No? Sì Che cosa può fare qualcuno Per corrompere un essere onnipotente Che può generare le cose Dal nulla Sputando sulla terra Eh lì È anche la bravura Di chi vuole corrompermi Capire quello che Cosa può corrompere Dio Quindi il tuo paradiso È rendere i cattivi buoni No vabbè Almeno non li rimando sulla terra Cioè rimangono buoni Da un'altra parte Poi non diventano cattivi Si comprano la suite Scusa Ti devono corrompere Dio Cioè non è che Tu porti Cioè uno Ha fatto una vita Vedimi come se fossi Come se fossi Il proprietario di un hotel Non devi corrompermi Devi arrivare Alla reception E chiedermi E dirmi Che posto vuoi Poi da lì In base Ti chiedo quanto costa Ok Quindi è proprio È un'azienda Cioè è un'azienda È paradiso SRLS Quella Però Ragazzi Siete pronti Guarda che Questa cosa qui Secondo me Se uno se la gioca bene Ed è previdente Puoi cominciare a scaricarla Già da adesso Dalle tasse Sta roba È scaricabile Dal 100% Mi sa Andiamo avanti E ti chiedo Una di quelle domande Un po' particolari Che spesso riguardano Il passato Delle persone A cui abbiamo fatto Questa domanda Perché Noi facciamo sempre Queste dieci domande No Infatti invito Andare a riguardare Anche Gli scorsi podcast Oppure Gli scorsi video Questa è Quella volta Che hai sbagliato Tutto Cioè quando hai detto Madonna Ho fatto una cazzata Tremenda Allora ti dico In realtà Questo ragionamento Ci sono arrivato Tempo dopo In realtà Perché io Ho lasciato la scuola In terzo superiore Perché mi hanno bocciato Ho lasciato la scuola Poi mi sono messo a lavorare E poi a caso È capitato YouTube Ripensandoci adesso Lasciarla È stato un errore Perché comunque Nel periodo O anche adesso In realtà Perché non si sa mai Nel periodo In cui ho cercato lavoro Ho fatto tanta fatica Perché non c'avevo il diploma Quindi Se mi chiedi Qual è l'errore Più grande della tua vita O questa domanda Che mi hai appena fatto Sulla volta che ho sbagliato tutto Probabilmente La decisione di Lasciare la scuola E di non ricominciarla È stata sbagliata Ok Ma quindi Con il senno di poi Però Perché tu là per là Eri convinto Diciamo Ma non è che Ero convinto È che non sono mai stato Un amante Della scuola Quindi Per me Lì era Vabbè Lascio scuola Tanto il lavoro Si trova anche senza Il diploma In realtà Poi mi sono messo a fare Il barista Il barman E Ho preso gli attestati Per quello che dovevo fare Però comunque Ti chiedevano il diploma Quindi poi ho capito Che in realtà Il diploma Te serve lo stesso Perché ormai Sono pochi I lavori Che non te lo richiedono Poi ho avuto la fortuna Di fare un lavoro Che non richiede Titoli di studio Che è questo E quindi niente Però col senno di poi Ti dico La scelta di abbandonare La scuola È stata quel momento In cui ho detto Ah cazzo Forse ho sbagliato Ok Ok E invece Se ti facessi la domanda opposta Ovvero Quella volta in cui Hai imbroccato tutto Che hai detto Cazzo Questo è proprio Un mega win Ho fatto la cosa Più figa del mondo Ok Allora Ce ne potrebbero essere due Solo che una non sia realizzata Ed è prettamente monetaria Che è Allora praticamente Una volta Ho in un video Avevo detto La schedina Della serie A L'ho indovinata Tutta E avrei vinto Una quantità di soldi Ovviamente enorme Perché era una schedina Difficilissima Impossibile Poi non sono un amante Delle schedine Non so neanche come funziona Ma mi hanno detto Che avrei vinto Una barca di soldi E ovviamente anche lì Non ci ho giocato Neanche un euro No Niente Zero Quindi ho solo vinto Le bestemmie Che ho detto dopo Ma qualcuno dei tuoi Possibile che non abbia Giocato la schedina No no Qualcuno l'ha giocata Però hanno vinto poco Perché magari Però era una di quelle schedine Che con un euro Ne vincevi 80 Pah miseria Cioè era quella schedina lì E ovviamente Non ci ho scommesso una lira Però vabbè Dal punto di vista reale In realtà Di quando Ho indovinato tutto Però dal punto di vista personale Lavorativo Nel momento in cui Ho deciso di Portare FIFA Io non giocavo a FIFA Prima L'ho iniziato a giocare Perché era Volevo portare su YouTube E mi ha aiutato tantissimo Cioè l'anno in cui Ho fatto il botto È stato grazie a FIFA Perché senza FIFA Non avrei fatto il botto Praticamente Quindi la volta in cui Ho beccato tutto È stato il giorno In cui la mia testa Ha deciso Di dire Sì Faccio un video su FIFA Perché poi da lì È esploso Tra virgolette Il canale Mi hanno conosciuto Un sacco di persone E poi è successo Quel che è successo Quindi grazie FIFA Anche se in realtà Non mi piaci Però grazie FIFA Tu lo sai che hai appena detto Una cosa disastrosa adesso Che non mi piace FIFA O grazie FIFA Eh bravo Di che ti piace Perché ci siamo passati Una volta Mi sono permesso di dire Che un gioco Di una serie Che andava benissimo Andava straforte In realtà Mi faceva cagare Io mi divertivo A farla la serie Ma il gioco Mi faceva un cagare nero Ok L'episodio successivo Sono calati Solo insulti Un terzo Un terzo Delle visualizzazioni E molti insulti Eh ma perché Ti davano del mercenario 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 è incredibilmente bello Come commento Non mi era mai capitato Di sentire mercenario E No vabbè Io allora Allora amo FIFA Allora amo FIFA Sempre amato FIFA Grazie FIFA Perfetto Perfetto No però Ecco alcuni Cioè tu sei stato Molto Ecco Cecchinoso Perché sei andato a prendere Proprio Il Il pelo Certi magari Dicono Vabbè Ho fatto quello Ho fatto quell'altro Ma In maniera molto più generalista Invece tu che hai detto Ok Nel momento in cui Ho aperto YouTube No Nel momento in cui Io su YouTube Ho portato questa cosa Che mi ha fatto scoprire Ma ti dico Perché te l'ho detto Nel senso Perché allora Io ho iniziato con Code Cioè facevo Code Solo Code Tutti i giorni Code Ovviamente Poi dieci anni fa Il pubblico era Non ti dico Cento volte più piccolo Non d'età Ma di numero Dico Ma forse sì Era cento volte più piccolo Il pubblico totale Che navigava su YouTube E Code Era la community più grande Perché era l'unica Che esisteva in realtà Poi è nata quella di FIFA E con il fatto Di portare FIFA Ho preso anche le persone Che o non giocavano a Code O non gli piaceva Code O non gli piaceva Un risparatutto Oppure giocano solo a FIFA Tutto il giorno Quindi in quell'anno lì Che ti dicevo prima Quindi 2013 2014 Ho iniziato appunto A essere un po' più conosciuto Perché La gente gioca a FIFA E è incredibile Bene Bene Quindi la volta in cui Ho azzeccato tutto FIFA FIFA Non l'avrei mai detto La schifi No è che È qualche anno Che in realtà Non ci gioco Quindi Cioè ci gioco Più a cazzeggio Con gli amici Ma niente Cioè non faccio video Su FIFA Da un po' in realtà Perché proprio Non gioco tanto A quel videogioco Beh questo però Per esempio Ha fatto avvicinare Molto Per esempio Noi che i giochi di calcio Non li riusciamo a guardare E ultimamente Seguiamo molto di più I tuoi contenuti Da quando ci stai mettendo Diciamo così Un po' di real life In più dentro Ok Noi siamo un po' più vecchietti Che sostanzialmente Di calcio Non capiamo un cazzo Li troviamo Molto molto interessanti Mi fa piacere Mi fa piacere Ma guarda Ti dico Purtroppo Si cresce Quindi Anche il mio cervello Come ho detto Adesso Come mi stavo dicendo prima Ho aperto da beta Il canale di Twitch E quindi Grazie a Twitch Riesco a giocare un po' di più Perché ho la scusa Del Sto su Twitch Posso recuperare Per recuperarmi i giochi Che ne ho mai giocato Come ho fatto con Detroit Become Human Non ci avevo mai giocato Ci ho giocato tre mesi fa No De meno Due Uno Il mese scorso Due mesi fa Poi su YouTube Cioè io mi diverto a parlare Quindi il lato del parlare Di quello che succede O degli argomenti A me piace Quindi Mi fa piacere che piaccia Anche agli altri Ora passiamo A una domanda Un po' Ecco Un po' strana Perché in effetti Dovresti scordare Tutto il tuo vocabolario Ok E hai la possibilità Di dire solo tre parole Cioè di comunicare Con sole tre parole Quindi Tu scegli quelle tre Userai sempre Quelle tre In qualsiasi occasione Quali sono queste tre parole? Per tutta la mia vita? Per tutta la tua vita Allora Una è sicuramente A O Sicuramente Al cento per cento Perché almeno puoi chiamare Grandi Vicini Donne Uomini Barbardici A O Qualcuno sicuramente si gira L'altra A O È per il richiamo Diciamo che dovrei Definire Delle categorie Perché almeno Capisco quello che devo dire A O È per chiamare Per attirare l'attenzione Per attirare l'attenzione Su di te Poi Capisci quello che ti serve In base a quello Puoi capire Allora Dovrei Capire Quello Che chiedo In realtà Perché Allora Sarebbe molto comodo Tenersi la parola Pieno Così quando vai a fare benzina Dici Pieno Sicuramente Non puoi rimanere a piedi So che è una parola Che la utilizzeresti Solo in quel frangente Però A O Pieno Al benzinaio Sei sicuro che ci vai Ok Bella domanda La terza Già con due Potrei sopravvivere Per almeno un anno A O pieno A O pieno Anche solo con A O In realtà Potrei sopravvivere Per almeno un anno A Roma Penso di sì No ma dappertutto 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 ormai E Forse mi terrei Nala Così sono sicuro Perché è il nome del mio cane Così sono sicuro Che non me lo Nala Così sono sicuro Che non me lo perdo Oh Vedi Così puoi chiamare la caniera Esatto Se no Cioè posso anche chiamarla A O Però lì si girerebbero In 300 E sarebbe un problema Guarda questa È stata una delle Delle più originali Anche perché Che vanno detto gli altri Poi vedrai Poi vedrai Ma Yakidale Ha fatto questa uscita Bellissima Sì Ha detto Noi dovremmo fare una cena Organizzare una cena Con tutti i partecipanti A questa prima stagione Di Annudo Dove Tutti Dobbiamo usare solo Le tre parole Che abbiamo scelto Cazzo è difficile Soprattutto se vai in pizzeria Io vi dico A O pieno Nala Però tu almeno Puoi chiamare Posso chiamare Il cameriere Il cameriere Posso con un botto di roba Sì ma Da come si è presentata La cosa Anche se ci mettiamo Di impegno Tra tutti quanti Un'ordinazione Non la riusciamo a fare Quindi Però possiamo indicare Però possiamo indicare Sul menu Sì Quello sì Quello sì È vero Però ci sono alcuni Che Se la caberebbero Molto male Tu per esempio Non ne hai messo Un'impregazione No vabbè Ma ne dico già poche In realtà Vedi Poi in realtà A O La usi come impregazione In caso A O Cioè A O È tutto Veramente Però tu sei stato intelligente Perché hai usato una parola Jolly già di suo Vedi Si è tolto tante di quelle Rogne con questo A O Si è tolto un sacco Di problemi E se invece ti facessi una domanda Relativa un po' così A quello che Che ti fa ridere Cosa Fa ridere Dread Allora Cosa mi fa ridere Fino a Qualche tempo fa Tipo allora Ti posso fare Ti posso fare in realtà Un profilo psicologico Della mia ironia Da quando sono bambino Quando ero piccolo A me faceva morire Dalle risate Facevano in generale Morire dalle risate I comici proprio Cioè i comici a teatro Romani Mi facevano ridere molto Tipo ero un sacco fan Di Maurizio Battista Non so se lo conoscete Sì E Vabbè è un comico romano E da bambino Mi faceva ridere un sacco Poi crescendo In realtà Mi è cambiata molto L'ironia E Adesso tipo le cose I comici a teatro Mi fanno Meno ridere Mi fa molto più ridere L'ironia Web Diciamo Cioè quella che Quando leggi Io mi capita Certe volte di leggere Dei commenti Sono super divertenti E penso Cazzo ma quello che ha scritto Questo commento è un genio Cioè io non ci sarei mai Arrivato A scrivere Una cosa del genere Cioè già solo Il fatto di Capire Per Un Un percorso comico Per scrivere Una battuta in quattro parole Su facebook Cioè a me fa ridere un sacco E mi fa Inmedesimare La persona che sta Dall'altra parte dello schermo Che scrive quella cazzata E a me fa ridere La situazione In generale Cioè diciamo che Se il web è usato bene A me fa ridere un sacco Mi piace che l'hai presa Dal punto di vista tecnico La comicità Cioè nel senso Mi sembra che tu sia Molto attento a questo Cioè al processo creativo Che c'è dietro Sì 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 Un sacco Ok Cioè come ti ho detto Cioè come ti ho detto Se io Quando leggo Perché allora Io penso di saper usare internet No Però quando vedo Delle persone che sono Cioè che vivono internet E riescono A far ridere Con una semplicità assurda Solo leggendo Quattro parole Cioè lì C'è un'ironia Che è molto alta Perché è difficile Fare ironia In quattro parole Su un commento Però quando Quando ti capitano Quei commenti così È bello Cioè proprio Beh mi fa ridere Non lo so Magari è stupida Come che cosa Però mi fa ridere Beh beh in soldoni Ti piace la comicità Acuta E pungente Cioè sostanzialmente Sì mi piace la comicità Pungente Esatto E se ci fosse un video Dell'ultimo periodo Che ti ha fatto Sbiascigata le risate Anche un video Di quattro secondi Anche un video Di quattro secondi In cui cazzo Ne so Qualcuno Si pesta Un dito col martè Cioè veramente Una cosa Stupida Che ti è rimasta Un po' impressa Allora Non è dell'ultimo periodo Ma l'ho recuperato Nell'ultimo periodo In realtà Perché non l'avevo mai visto Che è un video Di barba scura Su Non mi ricordo Che animale Non mi ricordo Se era il panda O il koala Che mi ha fatto Rotolata le risate Cioè mi ha fatto Veramente Tra tanto tanto Non so se l'avete visto Ma Fa di un ridere Incredibile Però l'ho recuperato adesso In realtà Sarà di due anni fa Quel video forse Credo Comunque è vecchio Però ultimamente Quello lì mi ha fatto ridere Se no io sono La classica persona Che si mette su Failarmi E si vede Le compilation Di gente Che si spiaccica Ok Anche quello Mi fa ridere Sì Ok Barbascura è anche Uno dei dieci Partecipanti A questa prima Stagione Di annudo Quindi Ottimo Bello Bel riferimento La scusa Che usi più spesso Questa è una cosa Che di solito Ti fa Fa cascare L'alibi Alle persone Che intervistiamo La scusa Che usi più spesso Perché poi Non la puoi usare più Non ti dirò Quella che uso più spesso Eh no Eh no Eh no Devi dire Quella che usi più spesso Ah ce ne sono un po' In realtà Qualche tempo fa Usavo sempre La scusa del cane Sempre Per qualsiasi cosa Tipo Esco E non potevo Star troppo fuori Ovviamente Perché ho il cane a casa Poi è un cane grande Non può rimanere Troppo tempo Dentro casa Deve uscire Quindi usavo sempre La scusa del cane Il cane deve pisciare Il cane deve andare in bagno In generale Il cane deve mangiare Deve bere Il cane ha fatto questo E quindi usavo molto Il cane Poi in realtà In realtà ti dico Che è rimasta La scusa del cane Cioè non adesso Che c'era la quarantena Quindi non è che Si è uscito molto Però sì Io ti direi Il cane E in realtà Ce ne potrebbe essere Anche un'altra Che è Stavo editando un video Quando magari Non è vero Ah ok Oppure devo editare Un video Quando non è vero Ok ma questa Vabbè questa cosa L'abbiamo sentita Altre volte Però quella del cane È nuova È nuova È perché non avete intervistato Gente col cane Perché è la scusa Numero uno No barbascura C'è il gatto Però il gatto È troppo indipendente Il gatto È più autonomo Di barbascura in sé Cioè sarà il gatto Che da mangiare A barbascura Sì è vero È vero Io anche C'ho il cane E purtroppo Non è una scusa Perché dove posso Me lo porto dietro Guarda io purtroppo Il cane che ho È gigante Quindi non posso portarlo Praticamente Ce la faccio fatica Quanto pesa Anala Ma in realtà Non pesa tanto Perché è magra Il problema È che è molto lunga Cioè lei pesa 22 chili Però quando Si mette in piedi Cioè su due zampe È 1,80 Cioè è lunghi È un cane lunghissimo È veramente È un cane lungo Ed è a pelo corto Se non ricordo male Medio Medio corto Cioè lo perde Un po' Comunque Cioè ne perde Perde a ciuffi Soprattutto adesso Che ha iniziato a fa caldo A Milano Quindi c'ho Casa piena di Peluri e di cane Va bene E invece Questo è un po' Un po' esistenziale Diciamo così Spiega l'amore Ad un bambino Di tre anni Ma è complicato Cazzo Se lo sapessi Io lo potrei spiegare È difficile Spiegare l'amore A un bambino Di tre anni E ho un limite Di parole No 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 Vai vai A fiume proprio L'unico limite Che hai È che Cioè Diciamo che Non avrebbe senso Mettersi a citare Che ne so Chekhov Perché è un bambino Di tre anni Quindi Devi essere molto Semplice Allora Io sarò Dato che è un bambino Di tre anni E che ovviamente Non conosce Pseudo niente Del mondo Io userei Una grande metafora Che hanno usato Aldo Giovanni e Giacomo Che è quella Della mela Che è quella Della mezza mela L'amore È che noi siamo Tutti mezze mele Nel mondo Nella vita Incontrerai Altre mezze mele Ma solo una Sarà L'altra metà Della tua mela Quindi gliela imposti Come la ricerca Dell'altra metà Certo Se ha funzionato Aldo Giovanni e Giacomo Funzionerà anche Se glielo dico io Dai Quindi Il bimbo A un certo punto Associa L'amore A una cosa Che si può mangiare Beh no Capito Così L'ho detto L'ho detto di mangiare L'altra metà della mela L'ho detto di abbracciare L'altra metà della mela Con istinti cannibali Ho capito Lì Lì non è colpa mia Questa Questa è una di Quelle domande Che abbiamo Scritto Fregandoci da soli Perché Non eravamo Stati Non siamo abituati A pensare A pensare a determinate cose Devi sacrificare Uno dei tuoi sensi Ok Quindi Udita Udito Vista Olfatto Gusto O tatto Quali sacrifici Esattamente come le tre parole Poi non avrai più Uno di questi sensi Probabilmente L'olfatto In realtà L'olfatto Come mai proprio questo? Perché ti dico Allora In realtà L'olfatto mio Lo utilizzo pochissimo E poi Gli altri sensi che ho Li reputo indispensabili L'olfatto un pochino di meno Ok Quindi Olfatto perché già sei abbastanza Sì Già sono debilitato Sotto quel punto di vista E probabilmente Sono anche la colpa Che è colpa mia Che utilizzo Molta rinazina Purtroppo Quando ho il raffreddore E il raffreddore Ce l'ho veramente Tanto tempo All'anno E A parer mio Mi ha fatto un po' male Secondo me Non è che sei allergico A qualche cosa Che ti fa venire La raffreddore No 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 Allergia no Allergia no Allergia ce l'ho Perché mi viene il raffreddore Ma sono allergico A I pollini In generale Però secondo me L'arinazina potrebbe No 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 Cioè A caso Ma poco Ok a caso E quindi probabilmente L'arinazina ha contribuito Però l'olfatto Già lo uso poco Quindi preferisco Tenermi gli altri Quattro Ok Quindi Olfatto Molto Molto proprio Preciso Questa di solito È Una domanda Che fa Un certo effetto E molti arrivano Alla risposta Pensandoci un po' Perché Perché è difficile Identificare questi momenti La cosa più bella Che ricordi Cioè se tu pensi A quello che hai vissuto Nella tua vita Una cosa veramente bella Che per te è un momento Importante Che ti piace Richiamare a mente Magari quando sei giù Allora Allora Un livello Questo villaggio Non siamo più amici Non ci sentiamo da anni Però Perché è stata una bella vacanza Mi ricordo che stavamo In questo centro vacanza Aveva una sala Me lo ricordo A memoria Quel centro vacanza Per quanto l'ho amato Eravamo dentro la sala giochi A giocare A Metal Slug Io ero in fila Lui pure E ho detto Ah cazzo ma sei tu Senza cazzo Perché ero bambino E poi da lì Ci siamo riconosciuti E altre due settimane insieme Quindi è stato un mese Della mia vita Insieme a questa persona Di cui non ricordo il nome Però me lo ricordo Vabbè facciamo un appello Poi Un caramba che sorpresa Ma tu ragazzo Sicuramente sei vivo ancora Se ti ricordi Di una storia del genere Scrivimi Perché ero io Adesso mi scriverà Adesso ti scrivono In 60.000 Che non parli Ero io Ero io Ero io Un amico di Brad Dell'infanzia Ti dice ciao La vita in galera È terribile Sono qui da 5 anni Per omicidio Esatto No Bellissimo Bellissimo Beh Le nostre domande Si sono Finite Si sono Si Si sono finite Si sono finite Sì No abbiamo finito Le domande Però noi Assolutamente Ti ringraziamo E anzi Tutti quanti Gli ascoltatori E i visualizzatori Prego Andate A visitare I social Di Matteo Piccarazzi H Dread Anche Twitch E Youtube Soprattutto Twitch Soprattutto Twitch Sottolineiamo Soprattutto Twitch Perché sta lì E streama Poco In modo Se è girato Perché Non Non t'ho visto Fa maratone Allora Maratone ho fatto due In realtà Una al compleanno mio Il 30 aprile 12 ore Poi ne ho fatta una Da 24 Perché ho Raggiunto Un obiettivo Che avevo su Twitch Quindi per ringraziare La gente Sì vabbè 24 ore Dai Sei Fra Fra ti dico E niente Praticamente È veramente difficile Perché Io facciamo In maratona 24 ore No infatti È sbagliato Sbagliato La prossima La faccio Di 371 giorni Guarda che c'è Chi l'ha fatto Sì lo so Ma tipo Io la vedo La gente Che è in maratona costante Ma tipo Di 60 giorni Io non so come faccia Cioè sono eroi Sì sì È difficilissimo Io dopo 24 ore Sono dovuto stare fermo Una settimana Perché non Ero stanco Quindi Non oso immaginare Dopo 50 giorni Sì Devastante Vabbè Non è più una maratona È un reality show In realtà Poi diventa Sì è come il canale Che aveva Sky O se ce l'ha ancora Quello del grande fratello In cui puoi vedere La casa del grande fratello Ero dentro È quello Twitch ormai È vero È vero È sempre Sempre più grande fratello Beh in realtà Se uno si organizzasse Con un sistema di webcam In tutta la casa Potrebbe davvero Fare quel tipo di cosa Ma guarda È un progetto Che secondo me Hanno avuto Circa in 40 Perché è proprio Cioè è figa Come roba Cioè immagina Che tu hai Una casa piena Di streamer Cablata In ogni stanza Con i microfoni E c'hai gli streamer I tuoi streamer preferiti Che vivono in una casa E parlano E tu li devi solo guardare Mamma mia Cioè funziona Con il grande fratello Immagino funzioni anche Con persone Che hanno un seguito web Nel web Sì Potrebbe Regia Regia attiva Tre Tre registi Che continuano a girare Esatto E quello che succede Bene Prossimo format Di punta Su Twitch Dove Comunque sia Si dovranno uccidere Gli streamers Perché No sì Certo 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 Quello lo guardo Cioè Grande fratello No perché alla fine Più che ammucchiarsi Non fanno Però No esatto Cioè Capito Dici ci fossero due coltelli Eh Ne rimarrà soltanto uno Oppure che ne so Il primo che bestemmia Lo cacciano Vabbè che pure il grande fratello Se uno bestemmia Lo cacciano Guarda se fai su Twitch Il primo che bestemmia Lo cacci Finisce in tre minuti Secondo me Quattro Massimo Va bene Va bene Grazie ancora a Matteo Grazie a voi Molto disponibile Noi ci vediamo Alla prossima ragazzi Ciao Ciao a tutti Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo